Terza bomba fatta esplodere di fronte a un esercizio commerciale di foggio in cinque giorni. La scorsa notte intorno a luna un ordino rudimentale, il terzo in pochi giorni, è stato fatto scoppiare contro una pasticceria di Via Crispi nel capoluogo Dauno. L'esercizio commerciale ubicato nel centro storico era chiuso a quell'ora. Il boato si è sentito per alcuni metri, la deflagrazione ha divelto la seracinesca del locale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. I danni al locale sono stati lievi, ma resta lo spavento e il disorientamento della città per gli innumerevoli episodi legati ad avvenimenti e alla criminalità in questi ultimi giorni agli esercizi commerciali. I titolari della pasticceria avrebbero riferito di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Due anni fa, nel 2012, lo stesso esercizio commerciale subì un primo attentato di Namitardo, con quello di ieri notte salgano a tre le bombe fatte esplodere a Foggia nel giro di cinque giorni. Grazie. Grazie.